Mentre le braccia dritte, la schiera dritta e le mani dritte, delicatamente. Lei anche qui sente dolore, fastidio? No, tutto bene. Ok, benissimo. Prego, si accomodi pure. Buonasera, le chiedo gentilmente i suoi dati personali, nome e cognome e dato di nascito per verificare la sua identità. Benissimo, è un perfetto orario, fantastico. Allora, vi dico un attimo i suoi sintomi o comunque perché si trova qui? Sì. Ok. E nel suo lavoro usa molto il mouse e la sua postura è questa che vedo. No, non si mette a posto. A me serve capire la sua reale postura. Ok. Benissimo. Allora, oggi andrò a farle un esame delle mani, dell'articolazione delle mani, dei polsi, per valutare se appunto i dolorini che sta avendo, formicoli, sono dovuti a qualcosa. Se appunto in questa zona o sono dovuti magari a una cattiva postura, alla cervicale, ci possono essere diversi motivi, le posso chiedere se si è fatto qualche vista riguardo alla cervicale. Ok, ci fa la settimana prossima. Perfetto. In ogni caso una visita alle mani ci sta. Comunque, si, si. Allora, come prima cosa le chiedo semplicemente di mettere le mani davanti a me, le appoggio un attimo. E vorrei solo osservarle. Non tocco ancora niente. Vorrei solo osservarle. Così. Ok, appoggiate. E l'altra. E adesso il palmo rivolto verso l'alto. Ok, le mani rilassate. Benissimo. Allora le chiedo se può farmi gentilmente dei movimenti. Allora, prima di tutto mi mette le braccia dritte, schiena dritta e mani dritte. Ok. Adesso palmi verso l'alto. Ancora verso il basso. Benissimo. Adesso mi girano le mani e mi mette le dita sulle spalle. Mi alzo un attimo i gomiti. Ok. Perfetto. Adesso invece mi mette sempre le braccia alzate. Ok. Palmi rivolte verso l'alto. Angolo di se riesce a 90 gradi. Invece verso di lei. E ancora verso l'esterno, verso di me. Benissimo. E adesso facciamo il cucù, come lo chiamo io. Quindi, incrocio le mani. E poi le stanno a prendere leggermente. Questo movimento qui. Benissimo. 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 Abbiamo preso gli amici satni. Bene, io ho il ciclo. Benissimo. ... 它s al livello fa. Certo, adesso il calcio da adesso è così. Certo, adesso l'avviso. comincerà la parte della visita in cui verrò a contatto con lei quindi adesso mi disinfetto le mani, darò un po' di disinfettante anche a lei però insomma volevo avvisare perché so che ogni persona ha una sensibilità diversa non ha provato dolore? no, al massimo penso preverà qualche fastidio non dovrebbe provare direi dolore no, è un esame abbastanza tranquillo ok, bene, sospetti che ti dimentico le mie mani benissimo richiedo anche, scusi, di arrotolarsi le maniche benissimo e di togliersi l'orologio e i bracciali gli anelli può tenerli ok benissimo quindi adesso appoggi con i palmi, le mani con i palmi sul cuscino molto bene e ok, comincio posso appoggi pure le mani qui molto bene adesso le esaminerò le mani da vicino semplicemente semplicemente per vedere se c'è qualcosa di non conforme quindi cominciò dal polso andando in su qui mi sembra tutto ok ok l'altro palmo bene giri le mani benissimo la prossima volta le chiedo di non mettersi lo smalto perché avrei dovuto anche controllare le unghie ma non fa niente ok per questa vista non servirà sempre il polso bene a me sembra tutto ok benissimo ha le mani un po' fredde vuole che alzi un pochino la temperatura si grazie ok adesso alzeremo bene come prima cosa vado a fare un esame in cui cercherò di sentire le sue giunzioni quindi andrò una mano no no tengo pure così andrò una mano alla volta a stringere prima qui mi dica se prova dolore no no qui qui adesso andrò in tutte a fare pressione molto bene anche qui e qui sull'amulare e il mignolo benissimo sull'altra mano sempre qui senta qualcosa se faccio così così ok e cominciamo sempre dal pollice ok il medio benissimo a me sempre controlliamo l'ultimo tutto a posto molto bene poi rilassare le mani giro un attimo vado solo a stringere anche qui sente qualcosa ok vado a sentire superficialmente le dita una per una molto bene ok ok benissimo adesso le chiedo di girarle e per la stessa cosa andrò a sentire delicatamente ok anche qui sente dolore fastidio ok bene l'altra mano il palmo perfetto adesso le chiedo di mettere i gomiti appoggiati in questo modo bene ok e li alzi anche ok benissimo va tutto bene appoggi pure adesso le chiedo di stringere i pugni in questo modo molto bene e adesso lasci ok porto ma no li porto un attimo io ok bene allarghi le dita in questo modo benissimo io proverò a stringerli non me lo lascio fare ben tesa ok ben tesa anche questo al massimo ok benissimo di nuovo qui al massimo molto bene adesso che io di alzare no alza il pollice ben ben teso e proverò e proverò a tirarlo giù non me lo permetto ok ben teso molto bene anche dall'altra parte molto bene adesso giri dall'altra parte prendo le mie dita stringa forte più forte che può più forte che può ok benissimo giri adesso blocco questo le cerchi di alzare ok bene adesso blocco queste dita e cerchi di toccare con il polpastrello la sua mano ok da un po' fastidio il picco po' ok adesso dall'altra parte le blocco qui lo alzi sono in medio bene e adesso tocchi ok provo a tirare giù qui tirare giù qui ben teso ben teso ok tirare giù qui tirare giù qui adesso segui i movimenti pollice indice bene e tutte le dita ok cerchi di fare il più forte che riesce ok bene ancora un po' adesso faccio questo movimento il più forte che riesce ok questo movimento il più forte che riesce ancora più forte più forte più forte più forte più forte più forte finchè non si stancano le mani ok a posto adesso prendo un foglio prendo un foglio e lei lo deve tenere come lo tengo io quindi fra pollice e indice ok lo tiri e non deve sfuggirla molto bene indice medio ok ah no più forte ok e poi anulare e mignolo anulare e mignolo ok benissimo adesso dall'altra parte giustamente io ho la mano più forte in questo caso perché sono opposta bene di nuovo benissimo medio e indice benissimo anulare e mignolo ancora molto bene adesso ti ripugio un po' ok ok adesso pieghi un attimo questa parte no così anche questa e in questo modo davvero il polso ok il polso benissimo benissimo adesso vado a sentire un attimo la temperatura cipure ha sempre le mani così fredde? si ah quindi una cosa normale da sempre si ok vabbè capito a molti mani fredde e quel caldo no? allora adesso come ultimo test ok le faccio il test della sensibilità quindi le chiedo di chiudere gli occhi e le chiedo di sapermi dire le faccio girare le mani e adesso mi deve dire dove sarà il mio tocco e se sarà uguale dall'altra parte ok? quindi cosa? che dito? ok ok e sono stati uguali? percepiti uguali? sì quindi annulare sinistro ok che parte esattamente sopra? base o sopra? base ok annulare destro base ok benissimo adesso annulare sinistro però è benissimo così ok annulare destro sempre l'occa ok giri pure bene pollice sinistro parte alto ok pollice destro base ok e adesso entrambi gli indici destro e sinistro base ok bene e di nuovo adesso le scriverò qualcosa le scriverò in una forma ok triangolo i suoi sceglie ok in che modo? sinistro triangolo ai cui l'altro testo va bene grazie per la precisione adesso l'ultima parte le andrò a idratare le mani per vedere se c'è qualche differenza se si sottolinea qualche problema se si sottolinea qualche problema anche magari di irritazione irritazione eczema qualcosa andrò a riguardarne attentamente e poi abbiamo finito è una classica crema per le mani ecco bene così andiamo a vedere anche come regisce la sua pelle mi dica se prova dolore da qualche parte e adesso vado a osservare da vicino mi sembra che sia tutto a posto ci ripura oi ci ragione però va bene no dico le ditte gel ma i fumatori hanno le ditte gel ok allora lei fuma? no no ok lo vedo adesso metto un altro po' di crema se lascia le mani anche belle idratate un buon profumo si ok mi dica se sente qualche dolore no ok mi dica se sente qualche dolore no bene vado a mettere un po' di pressione anche qui posso dire pure benissimo allora io la ringrazio direi che va tutto bene non c'è bisogno però manderò agli esami i risultati al suo medico di base bene allora la visita è conclusa come l'ho detto mi sembra mi aveva detto che ha provato dolore quindi io onestamente direi sarei più propensa vista anche la sua postura non è la mia specializzazione ma direi che potrebbe essere collegato un problema di cervicale da chi va? no lo conosco bravissimo molto professionale fa sentire proprio agio quindi si ok però sono comunque contenta che lei si è andata qui perché visto che comunque anche col col suo lavoro lei utilizza tanto il mouse insomma una postazione sempre a computer eccetera è importante farsi controllare soprattutto appunto se si soffre di formicoli o fastidi pesantezza benissimo comunque da parte mia non non c'è nulla di che quindi sia tranquilla probabilmente dovrà fare semplicemente qualche seduta per il collo ok e magari rinforzare i muscoli ma questo glielo dirà un altro professionista non non è il mio compito benissimo grazie a lei e arrivederci arrivederci salve allora si si è arrivato tutto sul fascicolo elettronico non deve prendere niente ok bene si figuri arrivederci a l'unico non si riesco a lui è è Grazie a tutti